È difficile, è sicuramente un momento complicato, però assieme dobbiamo lavorare per cercare di ricreare un percorso di valore verso il consumatore, quindi cercare di trasmettere assieme quelli che sono i valori delle nostre filiere attraverso chi? Attraverso il retailer, quindi è un processo, un win-win che deve necessariamente vederci assieme a lavorare. Grazie a tutti.